Ogni volta che mi trovo a parlare con chi voglia aprire un'attività nel settore ludico, vuole essere una sala per feste, vuole essere una ludoteca, vuoi o non vuoi ci troviamo prima o poi a parlare del mitico playground. È un'attrazione che in realtà suscita un grande entusiasmo, anche perché spesso incide all'interno del budget totale nella cifra più importante. E quindi è giusto affrontare l'argomento e capire il playground come deve essere, quanto dovrebbe essere grande, quindi qual è la misura e se c'è ideale, due piani, tre piani, qual è la tipologia di tecnologia che può essere utilizzata per la costruzione, ponteggio, moduli o pannelli. Quindi ce n'è veramente di tanti modi o eventualmente sulle varie tipologie di finiture o di complementi da mettere dentro. L'argomento del playground è veramente interessantissimo e in questo video di oggi cerchiamo di capire se c'è la misura adatta e qual è la più importante dal punto di vista dell'investimento. Nel video di oggi cerchiamo quindi di scoprire insieme se un playground il più grosso e il più bello possibile incidano in maniera profittevole all'interno della gestione della nostra attività, ma lo facciamo sempre con degli spunti di riflessione dal luto imprenditore. Ciao, sono Salvatore Papa, fondatore di Starlab Group, azienda multinazionale che si occupa della produzione in Italia di tecnologie per lo spettacolo e attrezzature per il divertimento. Da anni supporto imprenditori nel settore delle ludoteche, delle sale per feste e nell'avviamento del loro business. In questa serie di video scopriremo insieme alcuni aspetti importanti di come partire con l'impiede giusto per la vostra attività e quali sono gli errori principali da evitare. Partiamo subito da alcune considerazioni. Gli aspetti che distinguono fondamentalmente una tipologia di playground da un altro sono aspetti principalmente tecnici. C'è per esempio il modello ponteggio che, appunto come dice la parola, rappresenta una struttura che deve essere costruita come propri ponteggi che si trovano nell'edilizia, direttamente in opera sul posto e deve essere quindi completato integralmente là. C'è il modello poi a pannelli che praticamente sono dei veri e propri pannelli che vengono poi assemblati e quindi in qualche modo fissati sul posto e poi c'è il modello a moduli che è semplicemente già tutto completo, deve essere solamente affiancato un modulo all'altro per avere il vostro playground già bello che è finito. Vi assicuro che le differenze sono prettamente tecniche, dal punto di vista dei costi grossomodo si equivalgono. Il modello che vi consiglio è il modello a moduli, semplicemente per il fatto che oltre, come abbiamo detto prima, che avere minor tempo di allestimento è un piccolo svantaggio di un maggior costo normalmente nel trasporto, d'altro canto però recupera alla grande perché nel momento in cui dovreste andarlo ad ampliare basta metterci vicino un altro modulo che è già tutto completo, è già pronto e nel caso in cui vogliate eventualmente venderlo per magari, come vi auguro, ampliare e fare un altro progetto, in questo caso conserverà perfettamente il suo valore perché è integro. Pensate per esempio a un cliente che vuole venirlo a vedere piuttosto che magari lo dovrà avere allestito presso la sua nuova attività, nell'altro caso gli vendete solamente le materie prime, i componenti che dovrà poi allestirsi secondo degli schemi piuttosto che dovrà rifare tutto da capo con fascette, reti e tubi nuovi, mentre in questo caso lo prende e lo monta dall'altra parte potendo anche eventualmente fare delle modifiche. Ma, attenzione, non era questo l'oggetto del nostro video come non lo è quello di andare nel dettaglio, di andare a valutare per esempio le varie finiture, quello con la fascetta, quello che non usa la fascetta, quello che mette un gioco, quello che in altri mette, i tecnicismi e i tecnicismi sì è bene saperli ma sostanzialmente sono sistemi di produzione, a noi ci interessa il sistema di produzione o ci interessa se quella produzione può darci o meno i frutti che noi ci aspettiamo. In poche parole, stiamo parlando del fatto che se andiamo troppo a fondo negli aspetti tecnici e sfido voi di comprendere qual è il migliore tra questi, probabilmente andiamo un po' fuori rotta. Dobbiamo tornare un attimo a Monte e parlare di noi, cioè di me e te. Sì, perché mi rivolgo a te, donna, perché principalmente so che sei tu che ci segui e sei anche quella che viene definita la maggiore influente in famiglia per quelle che sono le decisioni d'acquisto, ma questo non lo dico io, ma lo dice semplicemente uno studio della National Center for Technology Information, è uno studio che è stato fatto in America dove praticamente è uscito fuori che le decisioni d'acquisto principalmente oggi nel mercato vengono definite da tre tipologie di clienti, GDN, cioè giovani, donne e Neizen che sono i cittadini del web. Non vado nel dettaglio di questa definizione e parliamo della lutoimprenditrice, quale so che sicuramente tu vorrai essere. Una lutaimprenditrice ragiona in questo modo, quelli sono semplicemente dei beni strumentali che servono per farmi raggiungere il fine e quindi non è il fine stesso, il fine della nostra attività è quella di realizzare, utile, di incassare, avere il maggior profitto svolgendo un'attività con passione che ci piace. Quindi sostanzialmente quel bene può essere e deve essere sicuramente funzionale, deve essere il massimo della sicurezza che può esserci dal punto di vista dello standard, ma noi questo lo diamo per scontato. Quello che mi sento di dirti oggi è questo, riflettiamo bene su quelli che sono gli aspetti della nostra attività, ovvero i beni strumentali sono importanti, ma soprattutto è importante come vengono organizzati all'interno del nostro progetto. Mi avete già sentito parlare qualche altra volta di quello che definisco il progetto profittevole e intendo per questo un allestimento di un'area ben progettata ed equilibrata tra spazi e contenuti che mi facciano avere il massimo del profitto attraverso un minimo 5 fonti di monetizzazione. Per quelli che sono le fonti di monetizzazione, vi rimando già a un altro video che ho registrato, per quello che riguarda invece l'area profittevole, la riflessione che voglio farvi fare è proprio questa. Il playground ci occorre che sia il più grande, il più bello e di conseguenza il più costoso o nell'ambito di una progettazione profittevole è uno degli elementi ma non il fondamentale. Se ci facciamo prendere troppo dalla volontà di voler preparare una sala con un'attrazione così importante ed imponente, rischiamo di fare un grave errore, quello di andare a canalizzare gran parte del nostro budget su un'unica grande attrazione. Ora, quello che dico potrebbe essere vincente ma nella maggior parte dei casi potrebbe essere un investimento in un bene che in qualche modo monopolizza le nostre risorse e non ci permetterà poi in caso di errore di valutazione, cioè abbiamo investito sulla cosa sbagliata oppure abbiamo investito gran parte del nostro denaro su un'unica cosa e quindi non riusciamo a diversificare i servizi e questo ci inchioderà senza poterci permettere di poter in qualche modo shiftare in altre soluzioni o di poter incrementare la nostra sala con altre attrazioni che abbiamo capito mentre cominciamo a svolgere la nostra attività che mancavano. Perché ci siamo bruciati tutto proprio su quel unico investimento. I principi di cui vi sto parlando sono principi che potete in qualche modo anche generalizzare poi a tutti gli altri tipi di investimento che dovrete andare a sostenere nell'ambito della vostra startup, dell'inizio cioè della vostra attività. Perché chiaramente dovrete andare a valutare tutta una serie di contenuti da mettere all'interno per poter poi realizzare una serie di azioni che vi portino delle entrate. In sintesi, il consiglio che sento oggi di darvi è proprio questo. A prescindere da quelle che sono le caratteristiche tecniche che sono sicuramente importanti, però nel caso in cui non sono delle innovazioni di prodotto ma sono semplicemente delle innovazioni di sistema o meglio dei sistemi di produzione soggettivi delle singole aziende valutate sempre se quel tipo di investimento vi porti verso l'obiettivo cioè vi faccia guadagnare più o meno in relazione all'investimento che sostenete o se è meglio a volte ridurre un po' l'investimento in quella direzione per avere una serie di attrazioni, attività all'interno della vostra area che comunque nel complesso vi generino delle entrate che avete previsto. Questo che cosa vi permetterà? Sicuro di avere delle entrate meno fluttuanti perché se investite solo in un'unica attrazione o va bene o va male. Se invece avete una serie di entrate accessorie, questo lo potrete solamente ottenere attraverso uno studio del progetto e attraverso la diversificazione dei beni strumentali che mettete all'interno della vostra attività, ovviamente le entrate saranno meno fluttuanti e quindi potrete in qualche modo più facilmente raggiungere quelli che sono i risultati di esercizio che vi eravate stimati piuttosto che mantenere un volume costante di entrate. Sono pratici consigli che potete adottare nel momento in cui vi troviate di fronte a venditori che in qualche modo esaltano principalmente le caratteristiche del prodotto senza farvi analizzare in profondità quello che poi è l'effetto di quel prodotto sul vostro business. Con questa prospettiva più allargata dal ludo imprenditore, il playground ma anche le altre attrazioni potete inquadrarle quindi solamente come degli strumenti per raggiungere i vostri risultati e la strategia per ottenere i risultati di esercizio che avete stimato devono essere visti in un complesso di azioni molto più organizzate che potremmo definire la vostra strategia. Per ricevere ulteriori consigli su come avviare un'attività ludica e se già sei in attività su come migliorare le entrate segui il mio canale YouTube Salvatore Papa SP iscriviti alla mia fanpage oppure seguimi su Instagram e sui canali social del nostro gruppo. Ciao!